Finali, c'erano ostacoli ovviamente femminili, Joanna Hayes, corsia 4 l'americana, perdita Felice la canadese, 5 la campionessa del mondo, non c'è gail diverso in questa finale. Parte molto bene la Sina Golden Clark in seconda corsia e la quarta, quinta corsia probabilmente interromperanno tutto, va via Joanna Hayes, va via Joanna Hayes l'americana, l'americana va a vincere con un eccellente 12.38, è il record olimpico eguagliato, era tanto tempo che non si correva così forte, si sono incartate, perdita Felice la vediamo, Irina Shevchenko corsia quinta e sesta, il risultato ufficiale esce.